Ciao astronomeri! In questo tutorial vi mostrerò come usare le guida di guida di plus e li colleghiamo a tutti gli altri elementi di plus. Iniziamo! Come potete vedere, le guida di guida di plus vengono in due strade diversi, ma l'uomo ha le stelle 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 per collegharsi con gli altri elementi di plus. Vediamo come. Se avete un vixen stelle plus dovetel bar, li puoi collegharsi con due strade di M6, in questo modo. Inizialmente, se avete il plus Lossmann D style dovetel bar, li puoi collegharsi con due strade di M6 e se vuoi avere il guida di plus sul top del support ring, puoi lo fixare in questo modo, sempre usando due strade di M6. E se vuoi collegharsi con l'uomo di plus sul top dell'uomo, puoi prendere l'uomo addiscizionale insieme con l'uomo di M5 e poi lo collegharsi direttamente sul top dell'uomo. Inizialmente, se vuoi collegharsi con l'uomo di M6